5 incidenti mortali, 19.560 multe per violazione del codice della strada, 5.688 con telelaser e 325 per utilizzo del cellulare alla guida e mancato uso del casco. E poi ancora i nuclei antidegrado che hanno multato 481 soggetti per conferimento rifiuti fuori orario e 232 per conferimento da altro comune. In ultimo 192 ispezioni del gruppo annone amministrativo sono i numeri principali di tre mesi di attività da giugno ad agosto scorsi nel capoloco pugliese degli agenti della polizia locale di Bari coordinati dal comandante Michele Palumbo. Il numero dei sinistri stradali, seppure con 5 incidenti con esiti mortali nel trimestre estivo, è ancora in linea se è parametrato statisticamente al numero degli incidenti relativi all'anno 2021. I controlli e le violazioni accertate e contestate in materia annonaria e di polizia amministrativa invece sono statisticamente superiori a quello dello stesso periodo degli anni precedenti e hanno consentito di regolarizzare situazioni di abusivismo commerciale che, si legge nella nota del Corpo Barese, alterano gli equilibri del circuito commerciale. L'attività di vigilanza e controllo del territorio per la difesa dell'ambiente per garantire la regolarità dei servizi di igiene urbana ha condotto anche a sequestri di aree adibite e discarica. Lotta all'uso di alcol e droghe, anche in questo caso sono state 58 le segnalazioni e contestazioni. Il numero delle violazioni per inosservanza del codice della strada è in linea col trimestre degli anni precedenti ed è nota una intensificazione dei controlli per il momento raggio della velocità veicolare all'interno del centro abitato con l'uso di telelaser e autovelox.